E allora eccoci con Laura Bottici del Movimento 5 Stelle, l'accento l'ho preso bene, perfetto, e questore al Senato, sempre per il Movimento 5 Stelle. Allora, mi ha detto, non la chiamo senatore o senatrice, portavoce diciamo in questo caso del Movimento 5 Stelle. Vogliamo cominciare proprio nella sua versa di portavoce dalle polemiche che come sempre in campagna elettorale diventano forti. Ad esempio oggi sul giornale l'affondo di Berlusconi, Grillo è come Hitler. Dobbiamo relativizzare ecco al periodo elettorale direi, però insomma anche Beppe Grillo ne ha avute di forti nei confronti dei suoi avversari politici. Allora, in quanto c'è parlare senatore di Berlusconi mi sembra che non dobbiamo più farlo. Cioè nel senso è un soggetto che è stato conadannato, è un pregiudicato, grazie al Movimento 5 Stelle e al voto palese che noi abbiamo chiesto e ottenuto. E' fuori dal Senato, sta facendo una campagna elettorale per il suo partito, che lui ci accusi noi di essere un movimento tipo Hitler, mi sembra assurdo. E' vero che noi spesso abbiamo dei toni alti, ma è anche vero che i cittadini sono esasperati e noi siamo entrati nelle istituzioni per questo. Cioè siamo esasperati. Ecco, la esasperazione. Vediamo l'esasperazione di Beppe Grillo che è stato a Siena e all'Assemblea, insomma a vedere le questioni del Monte dei Paschi di Siena. Sentiamo una delle sue dichiarazioni. Perché se lei vince l'Europei bisogna andare alle elezioni politiche? Ma perché? Perché? Perché non ci sarà più la maggioranza politica? Saremo noi il primo movimento, il primo partito in Italia, andremo lì a dire, si sciogliono le camere, si fa un altro presidente e si fanno delle elezioni anticipate. Scusi, ma chi ve la vota? La fiducia in aula? Il problema sono i numeri. I numeri ce li abbiamo. Come fate? I numeri ce li avremo. Mi scusi, è un po' come il pugine prima del match che dice vincerò, sono sicuro che vincerò, oppure voi i numeri ce li avete? Allora, noi da quello che vediamo nelle piazze e dai vari inocontri che noi facciamo, le persone sono con noi. Cioè il cittadino comune risponde benissimo a una politica diversa. Noi siamo nati nelle piazze, nei piccoli comuni in cui abbiamo aperto in qualche modo una discussione sulle istituzioni. Siamo entrati nei comuni, nelle regioni e ora siamo qua a Roma. E stiamo aumentando perché il fatto di ininformare e stimolare quella curiosità nel cittadino di andare a valutare cosa fa il proprio politico, fa sì che per il meccanismo che noi abbiamo ci allarghiamo. Io fino a qualche anno fa non votavo più. Poi ho conontrato il Movimento 5 Stelle e piano piano ho ricominciato a interessarmi di politica. Noi facciamo politica ogni giorno quando andiamo a fare la spesa, quando facciamo la raccolta di ferie in ansiata. Noi siamo a Roma un po' quella punta dell'iceberg che deve scardinare uno sistema. E ci siamo. Ecco, per esempio, per quanto riguarda le elezioni europee, Repubblica parla oggi di un sondaggio shock del think tank inglese Open Europe, secondo il quale i partiti populisti sono al 30% e voi sareste i populisti italiani un po' insieme alla Lega. Il popolo. Quindi, con centi di questo 30%, però dicono, insomma, la maggioranza pro integrazione europea non è in pericolo. Allora, se noi facciamo un calcolo della nostra percentuale, che possiamo essere anche al 30%, e la confrontiamo con un PD che per avere i numeri si è dovuto alleare con un SEL e poi si è subito staccato, o un PDL che poi si è distaccato in Forza Italia, NCD, Lega Nord, GAL. Noi, sì, abbiamo dei fuori usciti, ma il Movimento 5 Stelle è sempre quello e corre da solo. Senta, c'è una cosa che le vorrei chiedere proprio in qualità di questore del Senato. È vero questo che dice la stampa oggi? L'ultima battaglia del Movimento 5 Stelle è limitare i giornalisti dentro Montecitorio? Allora, io parlo per il sistema che è nato e quindi mi occupo poi della sicurezza inaterna. Noi spesso abbiamo delle regole che vanno a disciplinare dove alcuni soggetti e gli ospiti si possono muovere all'interno dei palazzi. Io ora non so perché Luigi Di Maio ha dato a me uno stop in qualche modo, ma spesso anch'io, uscendo dall'aula, ho soggetti che non dovrebbero stare lì. Ma non dovrebbe essere una casa aperta il Senato? Una casa aperta, certo, ma se noi poi pensiamo che abbiamo scoperto i lobbisti proprio fuori dalle commissioni... I lobbisti sono una cosa e i giornalisti un'altra. Io le posso dire che spesso, almeno in Senato, ci sono soggetti che girano intorno al piano dell'aula e non hanno nessun cartellino di riconoscimento. E questo ci impedisce anche a noi, come questori o agli assistenti parlamentari, di moderare chi c'è all'interno del palazzo. Io ho un'ultima battuta rapidissima. Lei è questore, quindi si occupa anche della disciplina. Certo, i suoi colleghi sono tra i più indisciplinati. È conflitto di interesse per lei? No, no, non è che siamo inadisciplinati a noi. Spesso accade che si alzano i toni, poi che lo faccia il Movimento 5 Stelle spesso è più sui giornali, per ogni cosa che noi facciamo, ma i toni si alzano da tutte le parti. Da tutte le parti. Grazie allora a Laura Bottici del Movimento 5 Stelle per essere stata con noi un'altra pagina.